Una doccia gelida, di quelle che di sicuro non scaldano il cuore sotto le feste, la casa di Babbo Natale è fallita. Chissà quante volte avrete sentito dire di andare oltre un titolo di giornale. Consiglio valido una volta di più per la notizia pubblicata dal quotidiano Il Tirreno, che dava conto del fallimento della casa di Babbo Natale a Montegatini. In effetti il Tribunale di Pistoia ha sì certificato il crack, ma di una manifestazione natalizia che nulla a che vedere con quella in corso, sempre nella città delle terme, la baita di Babbo Natale. Ma tanto è bastato a far scattare l'allarme generalizzato tra le famiglie che avevano deciso di raggiungere l'abitazione toscana di Santa Claus, prenotazioni cancellate e il telefono bollente, tanto da far preoccupare gli organizzatori. Diciamo che le telefonate sono state tantissime e anche le mail sono tutti preoccupati perché dice non c'è più Babbo Natale a Montegatini Terme, ma la notizia non è proprio così, non c'è più la casa di Babbo Natale a Montegatini, ma c'è la baita, l'originale baita di Montegatini Terme, con il mio grande Babbo Natale, e lo vedete dalla barba vera, che vi aspettiamo? Numerosi, come avevi fatto gli scorsi weekend. Dunque la precisazione è d'obbligo, ma il padrone di casa dalla barba bianca spera adesso che l'effetto domino non vada a discapito della sua baita, tutt'altro che fallita. Ci dispiace per quello che è successo, ma nella vita dobbiamo sempre sorridere, andare avanti e ricordatevi che i sogni sono desideri e alle volte realtà. Un ciao a tutti dalla barba di Montegatini e vi aspettiamo. Ciao!